Ciao ragazzi questa è la seconda parte dello scorso video che vi lascio in alto nelle schede se ve lo siete persi andatevelo a recuperare prima di guardare questo video continuate a supportare la carriera arriviamo a 1000 mi piace se volete anche domani alle ore 14 il prossimo episodio non ve lo chiedo spesso ragazzi però mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti la maggior parte di coloro che guardano ogni giorno i miei video non sono iscritti al canale che aspettate iscrivetevi al canale che a voi non costa niente ma per me per il mio canale per quello che faccio è davvero importantissimo fondamentale è arrivata un'offerta dall'hamburgo 12 milioni per pascal leon questa è un'offerta molto alta anche di presto per ferrari che però mi serve quindi rifiuto perché è il terzo portiere per leon ragazzi io lo vorrei tenere però vi dico la verità cioè lo dovrei provare solo che non abbiamo partita adesso e io provo a trattare se mi danno 20 milioni io accetto perché non posso rifiutare magari a lei ci ha fatto una stagione clamorosa noi neanche lo sappiamo però se mi danno 20 milioni ragazzi è un'offerta irrinunciabile 18 anni 74 di overall vediamo un pochettino 13 4 io se non lo vendo sopra i 18 milioni non lo vendo me lo tengo perché secondo me lui può diventare veramente un fenomeno però se mi danno 18 milioni mi cambia il mio mercato no 12 milioni 2 con un per cento niente rifiutiamo pascal leon rimane con noi prima di andare avanti con il video di oggi devo ringraziare lo sponsor del video sia ufo calcio come sempre miglior sito per acquistare maglie tutte da calcio a prezzi veramente bassissimi c'è anche la promozione di halloween con la quale potete ottenere in base a quanto spendete dei prodotti gratis con questa promo se acquisterete 2 maglie avrete una maglia gratis se acquisterete 4 maglie avrete 2 maglie con i pantaloncini inclusi gratuitamente se acquisterete invece ben 6 maglie avrete 3 maglie omaggio con pantaloncini e anche calzettoni Se invece acquisterete 8 maglie avrete 4 maglie con pantaloncini gratis e anche i calzettoni Trovate tutte le informazioni in descrizione con anche il link del loro canale Telegram Oltre ovviamente al link di UFO Calcio vi ricordo come sempre il codice IAS per il 10% di sconto Oltre ovviamente anche alla spedizione gratis se spendete dai 79 euro in su Tutti i link in descrizione Proviamo un altro tentativo per Castrovilli Passata una settimana proviamo come vi avevo detto ad offrire 14 milioni E metto anche la rivendita sul 15% Vediamo un po' se accettano Vorrei mettere la clausola perché secondo me può aiutarci veramente tanto Non vogliono la clausola vogliono 27 fottuti milioni Sono veramente troppi Proviamo ad andare a 16 milioni Mi dispiacerebbe troppo non riuscire a prendere Castrovilli Vediamo 16 milioni che cosa dicono Secondo me dovrebbero abbassare tantissimo la loro richiesta 27,4 mamma mia mi sa che non riusciamo a prenderlo Forse dovevo accettare i 18 però comunque erano troppi sicuramente Però ne ho promossa Prendiamo 17,5 però la tensione è già molto molto alta Però è veramente un peccato Abbiamo bisogno di un po' di tempo Vediamo un po' E se non riusciamo a prenderlo è un problema Perché io Castrovilli lo vorrei Uh hanno accettato i 17 milioni e mezzo Ecco vedete che alla fine quel mezzo milioncino si è riuscito a risparmiarlo Offerta anche del Barley dall'Inghilterra per Constanteglias Allora possiamo chiedere fino ai 5 milioni Che non sono pochi Però io Giannis non lo vorrei vendere così a poco Quindi andiamo a trattare Vediamo se la squadra inglese vuole offrirci un pochettino di più Vorrei chiedere sui 7 milioni al Barley Che teoricamente dovrebbe avere tanti tanti soldi Vediamo un pochettino Vorrei fare una bella plus valenza su Constanteglias Per prendermi anche un altro esterno Troppo alta va benissimo O lo vendo a tanto oppure me lo tengo Mentre per Castrovilli ragazzi andiamo a fare il contratto Direi che per 17 milioni e mezzo ce lo portiamo a casa Poi dovremmo fare un'accessione importante Comunque dovremmo vendere 2-3 giocatori Per poi finanziarci anche gli altri acquisti che dobbiamo fare Sicuramente il terzino destro Ma poi anche un esterno Castrovilli gli do 5 anni di contratto Così resta con noi praticamente a vita Tra l'altro poi vorrei anche farlo diventare capitano Se non già quest'anno comunque in futuro Lì darei insomma se niente clausola E vuole 47 mila di ingaggio Io comunque un'eccezione Per Castrovilli la farei Come bonus li mettiamo 15 gol E alziamo magari la somma anche a 600 mila euro Se mi fai 15 gol ti accetto tranquillamente Lo stipendio però dobbiamo fare 40 mila Con quei 500 mila euro che ho risparmiato Te li vado a mettere qua È un'offerta molto molto alta Però Castrovilli ragazzi è un giocatore Che voglio assolutamente portare al Bari Chiede tanto di stipendio Proviamo a togliere il bonus E provare a fare 42 mila È tantissimo Siamo in serie A va bene Su un giocatore possiamo dare tanto budget Però sono tanti 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 soldi Togliamo un altro pochettino di stipendio Facciamo 44 mila Con 470 mila di bonus ingaggio Se arriviamo a questa cifra Sono tanti ma li posso dare tranquillamente Molto bene accettato Abbiamo offerto tanto Però ritorna a casa Castrovilli È un colpo che volevo fare Già dall'inizio della carriera Appena tornato in serie A Volevo acquistarlo C'è stata l'occasione Non potevo lasciarmela perdere In questo momento sarebbe veramente Il nostro top player insieme a qualcun altro Ma comunque a centrocampo Deterebbe legge e giocherebbe assolutamente Sulla sinistra Un buon giocatore che può giocare anche C.O.C Può giocare sull'esterno Quindi un giocatore di grande fantasia Che ci serviva in realtà secondo me Perché Sposito non è troppo fantasioso Mentre Castrovilli è uno di Estro Un giocatore di Bari Che insomma i tifosi amano Dicono che è un A Ottimo affare ma me l'aspettavo Eccolo qua Castrovilli Come vi dicevo lo giocherò qua Come centrocampista sulla destra Tra l'altro può giocare anche come Ala Anche se vedete che fa un meno uno Però in realtà se lo mettiamo ES Come vedete può giocare tranquillamente Può giocare anche come C.O.C Che in realtà forse è anche il ruolo migliore Anche se per l'esagono che ha Secondo me è un giocatore Che può giocare tranquillamente anche qua Perché comunque a livello difensivo È anche più bravo di Esposito Abbiamo comunque Zucculini e Yashari Che saranno le riserve di Esposito e Castrovilli Quindi un buon centrocampo per la Serie A Castrovilli che tra l'altro Ho visto che quando giocava al Bari Da giovane aveva la numero 21 Io non so che numero dargli in realtà Per il momento gli darei la 10 Che se la merita Però se mi dite che preferite Che gli dia la 21 Addirittura la 7 Gli la posso dare Ma io per il momento Gli darei la numero 10 Meritatissima Come piano crescita Lo lasciamo il centrocampista centrale E gli potrei dare un box to box Per migliorarli un pochettino il tiro Oppure potremmo migliorare il piede debole E regista non sarebbe troppo male Altrimenti recupero a palloni Secondo me non è necessario Vi dico la verità Io gli darei un bel regista Uh attenzione Offerta dall'Eister Per Van Klemput Che è un giocatore che in realtà Lo vorrei tenere Perché non si lamenta quasi mai Di non giocare Un giocatore sui 27 anni Molto d'utile Può giocare anche sulla destra Possiamo chiedere fino ai 7 milioni Che sinceramente Non sono tantissimi Proverei solo a trattare Per vedere se possono darci tanti soldi Cioè se mi danno sui 9-10 milioni Insomma lo do via Quindi vi diamo 9 milioni Se non mi danno Minimo 8 milioni Me lo tengo Perché comunque è un giocatore molto buono Però ovvio se mi arriva un'offerta dell'Eister Devo comunque andare a trattare Non posso rifiutare e basta Quindi facciamo 8 milioni Se non mi danno Sopra gli 8 milioni O minimo 8 milioni Me lo tengo tranquillamente Hanno accettato 8 milioni Sinceramente speravo di no Però questa è un'offerta Molto realistica Tra l'altro Molti giocatori dell'Eister Belgi Sono andati all'Eister Rat Castagne Tilemans Poi magari mi dimentico anche qualcun altro Quindi è un'offerta molto realistica Dalla Premier League Da una squadra tra le top Della Premier League Dovremmo prenderci un difensore A questo punto Arrivano ben tre offerte Al 30 luglio Per Zanolli Caprile Fontana Rosa Salle tre offerte Per i miei tre big Dalla difesa Al portiere I due centrali Rennes Dal Strasburgo E dal Langer Quindi tre offerte Dalla Ligan Però sono tre offerte Che vado tutte quante A rifiutare Arrivano due offerte Una dal Salisburgo Una dall'ERTA Berlino Per Besnar Da 6 milioni E quasi 7 milioni Io andrei prima a trattare Con l'ERTA Berlino Scusate Con il Salisburgo Con il Red Bull Che ne sa di giovani Sarebbe realistica Come diciamo Cessione E me lo faccio pagare Però quello che penso Che valga Proviamo 9 milioni Io lo venderei anche Sui 7 e mezzo 8 milioni Però se accettano 9 Sarebbe tanta roba Hanno accettato Besnar Da un bel giovane Mi dispiace venderlo Ma per l'utilità Che aveva nella mia squadra Valeva la pena Prendermi 9 milioni Da investire Per gli altri ruoli Mi dispiace per Besnar Perché comunque Ha fatto dei gol importanti Anche un po' di Serie A Un pezzettino di Serie A È merito suo Però è giusto anche Che vada ad esprimere Il suo potenziale Al Red Bull Salisburgo Quindi tanta roba Anche per lui Mi dispiace davvero Per la cessione di Besnar Ma andava fatta Ha accettato di andare Al Salisburgo Per 9 milioni Bell affare Per il Salisburgo Per lui Anche per noi Perché comunque 9 milioni Per un giovane Della primavera Una bella plus valenza Per una squadra Neopromossa in Serie A E sono soldi Che ci serviranno Per investirli In altri ruoli Ci serve ancora Il difensore centrale Al posto di Van Clemput Per il quale Ci sono arrivati 8 milioni E poi ci dovrà arrivare Anche un terzino destro Abbiamo qualche nome in mente Adesso vedremo un po' Chi prendere Offerta del Barley Per Weber C'è arrivata un'altra offerta Per un giocatore nostro Dal Barley Tra l'altro Weber è pure cresciuto A questo punto Io lo darei via Presto di un anno Senza diritto di riscatto Offerta dal Betis Per Caprile La vado a rifiutare A questo punto ragazzi Blocca anche l'offerta Offerta dal Celtic Per Kylian Jacobs Presto con diritto di riscatto Ma vi dico la verità Il Celtic No Lo rifiuterei Non è troppo realistica Arriva un'altra offerta di presto Per Bernardi Che lo vuole l'Empoli Ferri Che lo vuole il Getafe Mentre Weber Ha accettato insomma Il Barley Di prenderlo Solo a titolo Temporaneo Quindi solo per un anno Mentre Bernardi Sinceramente come secondo Me lo voglio tenere Quindi rifiuto l'offerta E Ferri Per il momento ragazzi Credo che lo toglierò Dal Dal mercato Perché lo vorrei tenere Come quarto Offerta dal Bruges Per Zucculini Che però voglio tenere Almeno per questa stagione Anche se ha 31 anni È un ottimo giocatore Quindi no Rifiuto Per il terzino destro Abbiamo seguito un pochettino Di giocatori Come vedete abbiamo I resoconti di tanti terzini Però devo dire Che io non ho troppi soldi Da investire sul terzino Devo prendere anche Il difensore centrale Ne vorrei prendere uno Che accetti di fare La riserva Di Rueg Ma un giocatore Che magari giovane Possa crescere Dall'Udinese C'è Festi E Bosele 22 anni Irlandese È un giocatore Molto veloce Uno dei più veloci Per quanto riguarda Il ruolo di terzino Non solo in Italia Cioè forte tecnicamente Molto forte fisicamente Ma a livello tecnico Non è un granché Potrei provare A vedere se me lo danno In prestito No Purtroppo Si può prendere Solo a titolo definitivo Non dovrebbe costare troppo Prende poco di stipendio Quello mi attira Io all'Udinese Provo ad offrire Due milioni So che sono molto tirchio Però ragazzi Non voglio pagare troppo Anche perché all'Udinese Verosimilmente non gioca Vogliono Zuculini Più 400 mila euro Quindi credo Lo considerino Un giocatore Comunque importante L'Udinese Poi è una bottega cara Si sa benissimo Vediamo un pochettino Due milioni e nove Col 20% Non sono tantissimi Però ragazzi Non voglio investire Così tanto Su un giocatore Che non mi convince Al 100% Quindi sinceramente Provo due milioni e mezzo Senza la clausola Vediamo un pochettino Se mi spara una cifra Troppo alta La tensione è anche altissima Credo che vi Viriamo su un altro Che è detto Di aspettare Molto bene Weber in prestito Hanno accettato L'offerta di due milioni e mezzo Per Ebosele Secondo me è una buonissima cifra Quindi direi che possiamo Chiudere anche perché Prende poco di stipendio Quindi in realtà Paghiamo meno Rispetto ad altri giocatori Che poi chiedono anche Di giocare Come online A inizio mercato Adesso abbiamo visto Anche altri svincolati Il Lazaro era molto interessante Però preferisco Prendermi un Ebosele Che magari accetta Anche un ruolo sporadico Anche se potrebbe Credito un nuovo Invece no Sporadico Li va bene Li diamo Un bel 4 anni di contratto Per blindarlo Ancora molto molto giovane Non so quanto potrebbe crescere Come stipendio ragazzi Lui prende 7500 All'Udinese Direi che un ingaggio Uguale potrebbe accettarlo Li diamo anche un bel 50.000 Di bonus In ingaggio Magari vuole di più Però non credo Perché comunque L'Udinese in serie A Non credo voglia di più Invece la cifra È ridicola Mannaggia Dai ma com'è che è ridicola Tu prendi 7500 All'Udinese Vuoi prendere di più Da me Che giochi sporadico Vabbè Che poi quello che non capisco È perché devi dirmi Che è ridicola Dimmi quanto vuoi E se ne può parlare Perché devi subito Arrabbiarti E andartene via Non ha senso Offerta dagli Stati Uniti Per Riccardo Poli Non ha nessun senso Sta offerta Rifiuta Arrivano i risoconti Dalla primavera Attenzione Dall'Argentina Primo mese Non ci ha trovato nulla Male anche dalla Serbia Però qua vorrei trovare Il nuovo Vlaovic Mentre dall'Italia Ragazzi Allora Bellini non è male Ingaggiamo e vediamo Come possiamo lavorarlo Bellini quest'altro Il fratello Invece lo mandiamo a casa Ferrari Non male il potenziale Lo ingaggia Vediamo se possiamo Cambiargli ruolo E lavorarlo Mentre Colombo niente Intanto ragazzi Andiamo sul difensore centrale Per il post Van Clemput Io andrei Sucistana del Brescia Che è un ottimo giocatore In scadenza di contratto Teoricamente Possiamo chiedere Offrire anche Sotto i 5 milioni Considerato che abbiamo venduto Van Clemput 8 milioni È un ottimo giocatore Con buone caratteristiche fisiche Accetterebbe anche Di fare la riserva Di Fontana Rosa E di Zanogli E quindi sinceramente Al Brescia in serie B Andrei a pescare Questo Cistana E al Brescia ragazzi Io proverei ad offrire 4 milioni Come prima offerta Provando anche Spingere psicologicamente Sul fatto che sono in serie B Che il giocatore Magari voglia venire In serie A Finalmente 5 milioni e 2 Sono pochi Proviamo 4 milioni e 2 Se riesco a spendere Anche sotto i 5 milioni È tanta tanta roba Vediamo un pochettino 4 e 4 e 50 Che diamo A 4 milioni E 250 mila Secondo me sarebbe Un acquisto Veramente di livello Per una squadra Come la nostra È un'ottima riserva Molto bene Praticamente L'abbiamo pagato La metà Di Van Clemput Ruolo importante 4 anni di contratto Va benissimo È un ottimo Ottimo giocatore Sono molto contento Vediamo quanto vuole Di stipendio Lui prende 5 mila Per occhio Non fare l'errore Che abbiamo fatto Con altri giocatori Secondo me Lui sotto i 12 mila Non accetterebbe Li do anche Un 100 mila Di bonus ingaggio Io avrei dato Anche 15 mila Ma non voglio andare Troppo alto È una riserva 12 mila No Vuole 17 mila 500 Meno male però Che non mi ha mandato A cagare subito E sinceramente Proviamo ad abbassare Qua a 15 mila Il bonus ingaggio Invece Te lo posso anche alzare Se vuoi 18 mila 500 Scendiamo magari Sui 16 mila E qua ti do 200 mila Non voglio spendere Troppo sui ingaggi Perché voglio tenere Il tetto dei ingaggi Abbastanza basso Hanno accettato 16 mila E qui ne arriva Cistana Che secondo me È una bella bestia Come riserva A Cistana darei La 4 I Zuccurini Li darei la 5 Come piano di crescita Ragazzi Gli andiamo A dare un bel Difensore centrale Ma per il terzino È l'unico colpo Che ci rimane Da fare C'è Brian Reynolds Che è in scadenza Di contratto Non possiamo prenderlo In prestito Però io sinceramente Potrei anche prendermelo Tanto mi serve una riserva E lui non è malissimo Un giocatore comunque Affidabile Ovvio c'è di meglio Però se riusciamo a pagarlo Sotto i 2 milioni Andiamo a risparmiare Andiamo a risparmiare anche Questi 50 mila Che magari mi servono Per il suo ingaggio E sinceramente Secondo me Facciamo un gran bel colpo Con Brian Reynolds Ovviamente deve prendere Poco di stipendio Vuole ruolo turnover Già più di Ebozele Facciamo 3 anni di contratto Non me lo voglio Tenere troppo Vuole 5 anni Attenzione Attaccamento alla maglia O ai soldi Vediamo un po' Quanto chiede 18 mila Sono un po' Tantini Sinceramente Per una riserva Facciamo 15 mila Con 170 mila Di bonus ingaggio Se non accetta Ci devo pensare 19 mila 500 Secondo me Sono un po' Troppi per Brian Reynolds Cioè perché A questo punto Spendendo un milione e mezzo Potrei fare il sacrificio E prendermi O Laina O Lazaro A parametro zero Che sono giocatori Che magari potrebbero anche Scalzare Rue Come titolare E potrebbero essere giocatori Anche un po' Più divertenti Da utilizzare Anche perché Brian Reynolds Secondo me Non cresce più di tanto Essendoci un po' Il bug Del potenziale dinamico Quindi non lo so Sinceramente Guardate Mi tiro indietro Da questa trattativa Mi tiro indietro Anche dai Bosele E piuttosto Provo ad offrire poco Ad uno tra O Laina e Lazaro Ok O Laina è ancora Svincolato Facciamo un tentativo Vediamo quanto vuole A me piaceva Piccaltro perché A livello di stats Lo farei giocare titolare Gli offriamo tre anni Di contratto Ripeto a me piace Piccaltro perché C'ha il game face Lo farei giocare titolare Dobbiamo offrirgli noi L'ingaggio Ci dicono Devo offrirgli 41.000 Secondo me sono un po' tanti Io andrei con 30.000 Più 200.000 Di bonus In gaggio Fortunatamente C'ho abbastanza soldi Quindi posso portarmelo a casa Vediamo un po' Che cosa dice Ok accettato Forse potevo offrire di meno Però ragazzi Me lo prendo a parametro 0 Ok prende il doppio In realtà neanche Il doppio Perché prende 10.000 Più di Brian Reynolds Però tra O Laina E Brian Reynolds Mi vado a prendere Il buono O Laina Un bel cavallo Sulla fascia destra Sì poi come dice Paul Ferro in chat È anche un giocatore di esperienza Ha giocato anche in Inghilterra È cresciuto nel Chelsea È un giocatore che può darci una grossa mano sulla destra Tra l'altro Primo e unico colpo Credo che faremo a parametro 0 quest'anno Anche se in realtà Le squadre ne ho promosse Molte volte Prendono tanti giocatori a parametro 0 In prestito Quindi noi in realtà Facendo O Laina Abbiamo fatto un colpo realistico Li diamo la numero 34 Che è il suo numero Mentre per il ruolo Ragazzi Io lo vorrei giocare Sulla destra Non so se metterlo come Ada O come TD Ora dovrei controllare Per il momento lo metto come Ada Arriva un'offerta Dalla Aberdeen Per Diego Bernardi Che però voglio tenere Quindi rifiuto Offerta dal Villareal Per Zanoli 15 milioni Possiamo chiedere più di 20 milioni Però sinceramente Il capitano Lo vorrei tenere Quindi rifiuto l'offerta Offerta dal Pisa Per Poli Arrivata nel momento perfetto In serie B È una bella offerta Potrebbe anche giocare Non so chi abbia una destra Ma avendo comprato line Accetto assolutamente Siamo al 25 agosto È arrivato il momento Di affrontare La prima giornata di campionato Che sarà contro il Napoli Era nel destino Affrontare il Napoli Alla prima partita Dopo essere ritornati In serie A Affronteremo una squadra Molto forte Tra l'altro fuori casa Quindi non saremo Davanti ai nostri tifosi Ma saremo al Maradona di Napoli Tra l'altro ragazzi Vi faccio vedere anche Che insieme a noi E a Lecce È salita dalla serie B Anche il Parma Quindi il Parma Che è salito in serie A No anzi il Cagliari Scusate il Parma Già non c'era più Era salito il primo anno Adesso andiamo ad affrontare Il Napoli ragazzi Con praticamente La nostra formazione Che è molto rivoluzionata Con Piontek A guidare l'attacco Con Leon Che fa l'esordio Sulla sinistra Castrovilla Centrocampo E Olaina Come terzino destro Quindi per ogni ruolo Praticamente un giocatore nuovo In panchina abbiamo anche Cistana E sarà una partita Molto importante Anche per Leon Perché già da questa partita Capirò Se può giocare titolare Nel nostro bar O comunque essere un giocatore Importante su cui puntare O se in realtà È un giocatore Inutilizzabile Ma comunque Andiamo ad affrontare Questo Napoli E vediamo un po' Digustarci Questo ritorno In serie A Eccoci qua al Maradona Tutto esaurito Per questo inizio Di campionato 2024-2025 Con le grafiche Della serie A Prima giornata Benvenuti a Napoli Tutto gremito Per questo partitone Vedete anche Lo spicchio di tifosi Arrivati da Bari Per questa trasferta Aspettata Attesa Il ritorno finalmente Dopo due stagioni Alla guida Di questa squadra Mister Yass Riporta il Bari In serie A E ora siamo in serie A Per rimanerci Abbiamo fatto una campagna Acquisti Veramente importante Qualche eccessione Importante Arrivata Ma siamo riusciti A trattenere I nostri big Andiamo a iniziare Questa partita Piontek toccherà Il primo pallone Forza forza Bari Vediamo di giocarci Questo bel campionato L'obiettivo sono i 40 punti Con il sogno dell'Europa Mendes Palalunga Per Kvara Mamma mia che fascia Sinistra che hanno Palalunga Sul numero 9 Dembele Hanno venuto a questo punto Z-Man E meno male che non c'hanno Z-Man Perché mi segna sempre contro Inizio di partita Veramente caldissimo Oh Laina In mezzo per Esposito Attenzione dall'altra parte C'è Shisho Piontek Mette giù il pallone Il pistolero Piontek lotta Tiene palla Attenzione Tiro a giro Col destro Primo gol Al diciottesimo Anzi diciannovesimo minuto Come il suo numero di maglia Per Piontek Che spara E segna il primo gol Con la maglia del Bari Ecco il motivo Per cui l'ho acquistato Subito Piontek Con un gol Veramente Da pistolero Vero Mamma mia Che golasso Rinvio lungo Del loro portiere Bravo Zanoli Di testa Una gara Veramente importante A livello emotivo Per lui Contro la sua ex squadra Che l'ha fatto crescere Leon Attenzione Palla Su Eddie Salsedo La tocca Per Piontek Doppietta Di Shisho Piontek Non so se c'è l'esultanza Dello sparo Del pistolero Ma se esiste Poi la devo usare sempre Che inizio Shock per il Napoli Ma che inizio Per il nostro Bari Sale Kvara per il Napoli Palla sul primo palo Scodellata Un po' troppo debole Il colpo di testa Come anche il cross Ci arriva Caprile Palla larga Verso Kvara Olaina Riesce a tenere Molto bene Quindi Vettlesen Bene suo esposito Vediamo di approfittarne Che magari c'è un po' di spazio Anche se è un po' difficile Palla Verso Piontek Potrebbe chiudere Si è allargato un pochettino Ci ha provato col mancino Ma la palla esce fuori Zucculini In mezzo a tre Mamma mia Come si è girato bene Quagliata Porta avanti il pallone Podenze contro di lui Non si fa rubare Il pallone Quagliata Quindi Zucculini In mezzo per Salseto Dall'altra parte C'è Pedro Leon Prova col destro Che non è il suo piede Ma Meret viene inculato E arriva al 3-0 Ha segnato anche Pedro Leon Risordo da sogno E si è visto pochissimo Ma ha fatto Credo l'assist per Piontek Del primo gol Ma soprattutto Questo è un gol Che chiude la partita Poteva fare meglio Meret Poteva fare decisamente meglio È rimasto con le manine così Forse si è giocato il 3-0 Il gol di Pedro Leon Zanoli Gira palla dall'altra parte Per Quagliata Ci si è messi con la difesa 5 Per coprire E ripartire Stiamo giocando talmente bene Che voglio continuare in attacco Attenzione Palla per Uolino Che dire E' uscito Meret E vabbè ragazzi Ha segnato anche Uolino Che dire 0-4 Contro il Napoli Che partita pazzesca 3 punti bellissimi Vittoria nel derby Diciamo del sud Uno dei tanti Che ci possono essere Ma che golasso Di che dire qua Su quella fascia Veramente assente il Napoli E vinciamo la prima partita Sono contento anche per Uolino Che troverà tanto spazio quest'anno Credo che non compreremo più nessuno Sulle fasce Ci teniamo questi Grazie a tutti